Continuano le occasioni di confronto con la città volute dal sindaco Silvia Marchionini per discutere i progetti e le iniziative di rilancio. Dopo Pallanza e Suna oggi è toccato a Intra, in particolare tra le altre cose si è parlato con i commercianti dell'importante progetto che riguarderà fondamentalmente la messa in sicurezza degli attraversamenti di corso Mameli. Si tratta di un punto previsto dal nostro piano del traffico, spiega l'assessore ai lavori pubblici Nicolo Scalfi, ma era anche oggetto di un emendamento al bilancio presentato dai gruppi di minoranza a Prima Verbagna insieme per Verbagna e ha votato quasi all'unanimità. Quello di oggi è stato un primo momento di confronto sullo studio di fattibilità redatto dall'architetto Vincenzo Curti che ha curato il piano urbano del traffico. È ancora tutto modificabile, per questo abbiamo voluto raccogliere opinioni e suggerimenti, prosegue Scalfi. Il progetto prevede innanzitutto la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, ma anche la razionalizzazione delle code del transito delle auto che sono sicuramente uno dei problemi di corso Mameli. C'è anche un altro obiettivo riguardo a un aspetto estetico che permetterà di creare una prospettiva tra Piazza Aranzoni e il lago davanti, oggi nascosta da verde parcheggi. Al momento non è prevista la variazione del numero di posti auto, ma con una serie di accorgimenti si amplierà la visuale dalla piazza, anche che sembrerà in continuità con il lago. Il sindaco Silvia Marchionini ha poi accennato ad altri indirizzi per il futuro, ovvero il rifacimento della pavimentazione di Piazza Aranzoni e un progetto di revisione del lungolago di Intra. Ora si attendono le risposte e le suggestioni dei commercianti intresi.